Sono arrivati stamani, sono arrivati nelle quantità che avevamo ordinato per i medici che si erano rivolti alla nostra farmacia per averli. Alcuni medici li hanno già ritirati perché appena il magazzino ce li ha consegnati abbiamo avvisato i medici, i quali, ripeto, alcuni sono già venuti a ritirarli, altri arriveranno al più presto e inizieranno quindi questa campagna di vaccinazione. Alvia la campagna di vaccinazione anti-influenzale in provincia di Arezzo, 325 mila le dosi a disposizione dell'Asla Toscana Sud-Est. È ineludibile quest'anno che non venga fatto il vaccino anti-influenzale perché dato che la sintomatologia, i virologi ci insegnano, dell'influenza stagionale si sovrappone molto spesso ai sintomi del Covid-19. per permettere ai medici di fare una diagnosi differenziata fra queste due malattie, è evidente che se uno esegue per tempo la vaccinazione anti-influenzale, agevole il medico a fare una distinzione della malattia che eventualmente si possa presentare, soprattutto nelle persone anziane e soprattutto in quelle persone a rischio. I vaccini da giovedì 8 ottobre sono disponibili in farmacia per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta. Le farmacie private e pubbliche si sono infatti rese disponibili attraverso un accordo con la regione toscana ad effettuare la distribuzione dei vaccini messi a disposizione dal servizio sanitario regionale per conto dell'Asla. E' arrivato il vaccino tetravalente, è arrivato il vaccino trivalente adiuvato e poi è arrivato il vaccino per lo primo blocco. Ogni medico ha avuto da parte dell'Asla e quindi da parte della regione una disponibilità di vaccini in base ai propri assistiti e questi riguardano in primo luogo proprio gli assistiti a rischio e quest'anno non solo quelli delle categorie a rischio, quindi con patologie cardiovascolari, diabetiche, broncopolmonare e quant'altro, ma anche cittadini che abbiano superato il sessantesimo anno di età. Resta invece ancora da sciogliere il nodo della popolazione attiva, cioè le persone sane tra 6 e 60 anni. Ci sarà per tutti il vaccino? Allora, per tutto non bisogna, come dire, creare del panico. C'è questa preoccupazione da parte nostra, tant'è vero che abbiamo fatto le dovute richieste sia al Ministero della Sanità che alle singole regioni per aumentare quella dose vaccinale per la popolazione attiva che in un primo tempo è stata prevista, che secondo noi è del tutto insufficiente. Di qui a qualche giorno, diciamo, o al massimo qualche settimana, speriamo che venga esaudita questa nostra richiesta per poter completare la vaccinazione anti-influenzale.